Meritati, loro comunque bravi, con episodi a momenti molto decisivi, però comunque noi siamo stati bravi a gestire la palla e come dico sempre con la testa riusciamo a vincere. Guarda, Atletico 2000 come ben sapete ha dato sempre dei giocatori bravi, con dei valori elevati, sì sarebbe un onore di rappresentare la squadra del circolo, ma comunque non è che sono stato io il più bravo, io so sempre di parere che la squadra deve vincere, i singoli escono fuori quando la squadra vince.